e ciao a tutti ragazzi io sono Alfio Zaffala e oggi siamo in un nuovo video in questo nuovo video vi voglio raccontare cos'è il mio successo con la mia striscia led Philips Hue iniziamo allora ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo video vi voglio raccontare cosa mi è successo con la Philips Hue allora praticamente non si sa cosa sia successo mi si è bruciata la striscia led quella che avete visto in moltissimi miei video e praticamente non mi funziona più ora l'ho rimossa dalla mia stanza e praticamente non so se è bruciata e praticamente io ancora non mi spiego come sia possibile e praticamente non mi va più però è un peccato perché mio cugino aveva speso per farmela bene 50 euro e l'ho tenuta bene un anno e non mi ha dato mai problemi così di punto in bianco se le pensate mi ha smesso di funzionare comunque almeno mi è rimasta la Philips Hue White almeno quella funziona e quindi praticamente non lo so ditemi voi cosa dovrei fare sperando che non lo so non vado tutto sto speriamo che la mia lampadina Philips Hue White non mi abbandoni e niente bene ragazzi con questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e le notifiche e noi ci rivediamo al prossimo video ciao ragazzi